ciao ragazzi una piccola postilla riguardante il video che ho fatto qualche minuto fa qualche oretta fa ho fatto una piccola un piccolo errore dunque ho detto che il totem ha venduto in ericane invece non è così il city non è riuscito a prendere ericane e magari adesso il city che si butta su vlaovic quello volevo dire mi sono un po incartato prima in quel video di prima era questo che volevo dire il city adesso che non ha preso che in si può buttare su la possibilità di buttare i soldi su diciamo come si chiama qua dusan vlaovic però c'è anche il totem di fabio paratici su questo giocatore magari in estate venderanno ericane si butta anche il totem che gli piace molto a fabio era un suo pallino questo era solo questo per aggiungere oltre alla juventus che c'è in giro la voce che la juventus potrebbe prendere che c'era anche una clausola di 45 bar 50 milioni con il giocatore io sto pensando allora se la juve spende quei soldi vuol dire che qualcuno lo vende c'è qualcosa che bolla in pentola magari lo venderanno venderanno qualcuno per prenderà per prendere questo lauric però io adesso non al momento queste state soldi bisogna vedere se ce n'è tanti da spendere e dove si spendono io farei un altro giro in serie b andrei a vedere dei talenti in serie b prima di spendere quei 50 milioni su vlaovic o quanto quanto dovrebbe spendere intanto la prima offerta di l'ho letto prima nel nelle le pagine è stata rifiutata dalla fiorentina che ha chiuso a cherubini dalla formula tipo chiesa era solo questo per raggiungere ragazzi iscrivetevi al canale e mandate un like ciao